Come vedono gli investitori esteri il mercato italiano? Quanto è attraente per loro? Non molto bene, francamente. Recentemente abbiamo iniziato questa ricerca che chiamiamo osservatorio con Ipso, che è la società di Mannheimer, proprio per individuare qual è il grado di attrattività del sistema Italia, non tanto visto dalle agenzie di rating o dalle comunità finanziarie istituzionali, ma veramente dagli operatori. Allora, sinteticamente abbiamo un parametro di 100, che è il massimo dell'attrattività dei sistemi, l'Italia purtroppo è a 30, cioè praticamente meno di un terzo della capacità di a 30. I problemi fondamentali che vengono individuati sono tre. La burocrazia, che è considerata ormai il freno più importante per gli investitori esteri a venire in Italia. La giustizia, altro problema fondamentale, perché la giustizia civile, soprattutto per chi ha a che fare con l'economia finanziaria, è assolutamente indispensabile. Il terzo è il mercato del lavoro, però tutto sommato quando uno, fino a un po' di tempo fa, si pensava che il mercato del lavoro fosse l'ostacolo più importante, in realtà non è così, è la burocrazia. Di qui quindi l'analisi fondamentale è che questo Paese, prima ancora di aspettare le riforme di politica monetaria dell'Europa, ha bisogno di fare veramente una serie di riforme fondamentali per poter essere competitivo con gli altri sistemi. Invece il mercato strettamente finanziario è interessante per gli investitori stranieri? Il rischio Italia è accettabile e offre opportunità? Allora, questa è una domanda interessante. Il mercato finanziario è molto attraente per la finanza internazionale. Lo è sempre stato, lo è e probabilmente lo sarà. Questo perché? Perché l'Italia è un Paese molto finanziarizzato. In altre parole, per banche e operatori finanziari c'è molto da fare. Pensiamo solo a quella massa enorme di debito pubblico che comunque deve essere finanziata. Quindi c'è sempre questo grande interesse per gli operatori. Pensiamo per esempio al fatto, come si diceva prima, che le società e le aziende si rifinanziano in larghissima misura col credito bancario. Quindi insomma, c'è moltissimo da fare. È un mercato attraente che può creare e generare profitti. Dal punto di vista del rischio, naturalmente c'è sempre un po' di attenzione e di dubbio, però le cose mi sembrano che stiano leggermente migliorando, anche perché obiettivamente Renzi sta creando delle attese importanti. I minibond sono uno strumento sviluppato in Italia che all'estero guardano con molta attenzione per replicarne il modello. Sì, i minibond sono una cosa interessante. Personalmente sono un pochino più prudente nel pensare che i minibond possono essere una risposta fondamentale alle esigenze della società media. Sono un po' più prudente per una serie di ragioni. Fondamentalmente due sarebbero lunghi. Primo, bisogna che cambia radicalmente la mentalità di chi emette i minibond. Non si può pensare di emettere i minibond con gli stessi tipi di bilanci, di regole che oggi hanno le piccole e medie aziende. Devono cambiare, adattarsi alle regole del mercato. La seconda è naturalmente che le stesse banche devono cambiare un po' di mentalità e aiutare queste società e questi loro clienti a trasformarsi in soggetti attivi del mercato. In altre parole, è una buona idea, ma ci vorrà un po' di tempo prima che possa diventare fondamentale. Quale ruolo hanno le banche estere in Italia e quali vantaggi possono portare? È un ruolo molto importante. Insomma, da sempre hanno avuto, per esempio, un ruolo di innovazione fondamentale. Questo parlo degli anni 50, adesso devo fare la storia. Ancora oggi, naturalmente, hanno un ruolo importante sia dal punto di vista della banca retail, non dimentichiamo che oggi il 17-18% del mercato retail è in mano a banche estere, sia naturalmente, ma questo lo capiscono tutti dal punto di vista della banca di investimento. Cioè, tutta la serie di operazioni finanziarie di alto livello, di ingegneria finanziaria del capital market, equity capital market, securityization del quale abbiamo parlato, eccetera, sono naturalmente in larga misura, non dico in mano, ma insomma vedono le banche straniere come attori o attrici principali.